Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo qui ancora su Final Fantasy VII Rebirth perché, a parte la grande sorpresa che ho avuto nel ricevere così tanti commenti positivi e anche, diciamo, tanti commenti dove mi si è quasi spronato, quasi obbligato, tra virgolette, a parlare delle build dei vari personaggi e devo dire che questa cosa in realtà mi ha piacevolmente sorpreso, mi ha piacevolmente colpito. Oggi, per l'appunto, siamo qui in questo video proprio perché parleremo di un altro personaggio di gioco che non ho trattato fin da subito, essendo, come ho spiegato comunque in alcuni commenti per le persone che mi hanno scritto, come ho scritto per alcuni commenti, appunto, stavo dicendo che non rappresentano fondamentalmente il mio gameplay, il mio modo di giocare, però sono comunque personaggi presenti all'interno del gioco e quindi è giusto che se ne parli in un modo o nell'altro. Il personaggio di oggi che, ovviamente, andremo ad analizzare nel dettaglio è il nostro cagnolone Red XIII, o comunque Red XIII, chiamatelo come volete, anche se, ovviamente, il nome corretto sarebbe Red XIII, perché, appunto, il numero romano si identifica come numero, appunto, ordinario, no? Quindi sarebbe Red XIII. Detto ciò, di che cosa parliamo? Parliamo di un personaggio che, fondamentalmente, per come funziona, perché magari molti non l'avranno notato, o comunque c'è chi effettivamente ha schippato i tutorial, è un personaggio che, per come è stato idealizzato e per come è stato ragionato, potrebbe tranquillamente essere giocato come tank, ma al tempo stesso potrebbe anche essere giocato come un ibrido DPS. Io, diciamo che ho optato principalmente per giocarlo più offensivo, nel senso che, avendo Barret, che fondamentalmente per me rappresenta il tank del gioco, e rappresenta il tank in maniera eccelsa, dato che ha la possibilità veramente di poter sfoggiare tantissime abilità per essere un tank, e quindi non ha quasi bisogno, cioè non si ha quasi bisogno di avere un altro tank all'interno del gioco, ho preferito fare gli altri personaggi un po' più viabili verso la via del fare danno, perché, ovviamente, non posso difendermi e basta, ma ci vuole anche qualcuno che faccia danno. Uno di questi personaggi è ovviamente Red. Red, però, appunto, come vi stavo dicendo prima, avremo modo comunque di vedere anche il suo funzionamento da pseudo tank, o comunque pseudo tank supporto. Perché vi dico questo? Perché? Innanzitutto, come equipaggiamento, in questo caso, io sto utilizzando il collare magico, perché devo apprendere l'abilità, quindi poi qua starà molto a voi, nel senso, se volete giocarlo più offensivo, quindi con una preponderanza di attacco fisico, avrete modo di sfruttarlo con l'attacco fisico, altrimenti potrete anche aumentare di più la sua potenza magica, per sfruttarlo, appunto, magari come tank e attaccante magico, o comunque come tank barra supporto, per dare, diciamo, magari quella spinta in più verso le magie, verso le cure, eccetera, eccetera. Io personalmente utilizzo il collare magico, ripeto, semplicemente perché devo apprendere l'abilità, che ancora, nel senso, non mi ha invogliato nel prenderla, perché, ripeto, Red è comunque, insieme a Kite, uno dei personaggi che utilizzo meno nel gioco, quindi, ahimè, lo sto utilizzando solo in quest'ultima fase per le sfide leggendarie, per le sfide quelle singole, ma, ovviamente, lo sto utilizzando anche per farvi vedere una pseudo build. Mentre, se lo volete utilizzare come attaccante fisico, e vi piace l'idea di poter sfruttare Red come personaggio attivo, principale, per fare danno, il mio consiglio è il collare d'oro, ovviamente. Collare d'oro con un elevatissimo potere offensivo, e, inoltre, anche l'abilità che si sblocca tramite il collare d'oro è eccezionale, ovvero il sollievo guerriero. È una delle abilità che, secondo me, risulta essere più utile sia dal punto di vista offensivo, sia dal punto di vista anche difensivo come supporto, ed è, ovviamente, una di quelle abilità che sicuramente vi consiglierò di utilizzare. Però, dipende molto, ovviamente, ripeto, da come volete giocare Red. Quindi, secondo me, l'arma migliore dal punto di vista offensivo è sicuramente il collare d'oro, mentre, invece, il Breezingamen o, addirittura, non mi ricordo se c'era... C'era anche il collare d'ametista, che non era male, però forse il collare d'argento... Comunque, sì, dal punto di vista magico, ovviamente, il collare d'ametista è sicuramente quello migliore. Però, ripeto, dal punto di vista, diciamo, offensivo delle armi, dipende sempre la vostra build. Quindi, o struttura offensiva, o struttura magica, o comunque più difensiva. Per quanto riguarda, ovviamente, la protezione, anche in questo caso, ho una fascia di Varvados Plus, semplicemente perché mi permette, comunque, di avere più slot materia, a differenza degli slot cetra, cioè degli equipaggiamenti cetra, che, utilizzati dai miei personaggi più forti, ovviamente non mi consentivano di avere altri slot materia. Però non vi preoccupate, perché quelli che comunque si possiederanno alla fine del gioco saranno più che sufficienti per buildare il vostro personaggio nel miglior modo possibile. Quindi, veramente non preoccupatevi. Anche perché Red, diciamo che da un punto di vista, diciamo, fortunato o meno, dipende sempre, ripeto, per come lo volete sfruttare, non utilizza tantissime materie. Perché lui riesce, diciamo, a giocare quasi da indipendente. Riesce ad avere comunque talmente tante abilità, talmente tanta variabilità, in generale per quanto riguarda il suo kit, che riesce fondamentalmente a fare quasi tutto da solo. Quindi, per questo, ovviamente, bisogna sempre valutare se, diciamo, utilizzarlo di più dal punto di vista offensivo o dal punto di vista difensivo. Per quanto riguarda l'accessorio, al solito vi ricordo che l'accessorio è prettamente personale. Ovviamente, sempre in base a come volete sfruttare il vostro personaggio, dovete scegliere l'accessorio affino. Ce ne sono veramente di tutti i tipi presenti all'interno del gioco e quindi non mi sento, come sempre, di consigliarvi un accessorio nello specifico. Ovviamente, gli accessori più forti, gli accessori che sicuramente cambiano la prospettiva del vostro gioco sono assolutamente gli accessori quelli con effetti particolari, come ad esempio può essere il fiocco, che il fiocco può tranquillamente eliminare tutti gli status alterati. Un convertitore è anche molto buono, in realtà, perché vi consente praticamente di sfruttare le barre ATB per caricare la limit. Quindi, anche questa, comunque, è molto buona. l'acceleratore del limite che vi permette già di avere una mezza barra piena fin da subito, quindi accelerare ancora di più. Quindi, avete veramente l'imbarazzo della scelta in base, ovviamente, al vostro stile di gioco. Vi ricordo sempre che queste build non sono delle leggi, cioè non sono delle robe fisse. Sono semplicemente un modo mio di interpretare il gioco che, ovviamente, si avvicina al mio stile di gioco. Però, se non si avvicina al vostro stile di gioco, è ovvio che andrete a guardare possibilmente un'altra build dove magari il personaggio o, in questo caso, il, diciamo sì, il personaggio, comunque il giocatore, riesca ad avere una maggiore affinità. Per quanto riguarda, invece, le materie, perché, ovviamente, dobbiamo anche andare a guardare le materie, in questo caso, che cosa vi dico? Vi dico che sto utilizzando, ovviamente, una materia vitale, che ne sto utilizzando, in realtà, tre, direttamente su Red, ma solo perché sono a livello basso. Quindi, essendo a livello basso, mi danno il 10%. E dato che l'effetto massimo cumulativo è il 30%, ne utilizzo tre. Visto che, comunque, alcuni di voi mi hanno scritto sotto nei commenti pensando che non lo sapessi o che non sapessi leggere, abbastanza buffa come cosa, il fatto che, essendo l'effetto cumulativo del 30%, anche per l'appunto, è il fattore massimo, io potessi sprecare, tra virgolette, materie indossandole o comunque equipaggiandole con i personaggi. Ma, in realtà, non è così perché, come ho poi spiegato successivamente in altri commenti, ho semplicemente equipaggiato le materie per far prendere esperienza e poi, magari, poterle cambiare con altri personaggi che necessitavano materie e quindi riuscivo in un modo o nell'altro a livellarne di più e in modo anche più rapido. Quindi, ci tengo a sottolineare quest'altra cosa perché bisogna effettivamente farlo. A questa materia vitale ho aggiunto una materia evolutiva semplicemente perché così mi sbrigo di più a farla crescere. Anche alla materia trincerante che è un'altra delle materie che vi consiglio proprio per il meccanismo di red che vi spiegherò man mano che giocheremo e man mano che vi farò vedere come funziona red. E poi, ovviamente, la sfera evolutiva proprio per aumentare la trincerante che secondo me è la materia migliore da equipaggiare a red sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista difensivo. Perché vi dico questo? Perché red gioca tanto sul fatto di parare gli attacchi subire danni e poi sfogarsi tramite appunto la sua barra diciamo di tramite appunto la sua barra il suo attacco speciale che comunque sia gli consentirà di diventare più forte e recuperare addirittura gli HP con la barra appunto vendicativa ecco mi veniva il termine con la barra vendicativa al massimo e quindi vi consentirà di avere qualche soddisfazione in campo di battaglia quindi la trincerante è sicuramente una delle materie migliori. Successivamente ho messo un'autoabilitazione armata perché ovviamente red non essendo principalmente il mio personaggio principale perché non lo utilizzo quasi mai se non mai fondamentalmente come personaggio principale almeno in questo modo potrà utilizzare le abilità delle armi o comunque in generale le abilità che sono state assegnate ai comandi rapidi in base ovviamente a quello che si necessita. Materia ricaricante per avere turbo ATB che comunque ecco un ottimo incentivo per avere appunto subito magari nell'eventualità due barre ATB immediatamente e quindi riuscire a fare magari delle tecniche un po' più complesse una materia di risveglio molto molto utile soprattutto quando giocate in solo nelle sfide leggendari dove appunto vi ritroverete da soli contro altri nemici abbastanza potenti è molto 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 importante magari potersi risvegliare da soli red avrà la capacità anche di curarsi da solo però se ovviamente viene messo KO non potrà curarsi tanto vale avere almeno risveglio e poi magari curarsi nel momento più adeguato materia meditativa che mi consente comunque di curarmi senza sprecare MP anche se in realtà diciamo gli MP non sono un problema per red visto che lui possiede comunque tante abilità e tante tecniche che non sono legate alle materie quindi non si sprecheranno MP in generale proprio perché lui tramite le sue abilità riesce a fare quasi tutto materia curata questa è un'altra di quelle penso obbligatorie per red sia dal punto di vista offensivo e difensivo perché le parate e il subire danni aumentano vertiginosamente la possibilità di red di incrementare la sua barra vendetta quindi fare parate perfette tramite la trincerante ci consente di aumentare la tb subire danni e pararli in modo perfetti ci consente di riempire la barra limite quindi fate uno più uno e avete il risultato finale dove red appunto potrà sfruttare non solo le barre a tb ma anche la sua barra vendetta per fare un macello incredibile altra materia vitale perché come vi ho detto prima ne ho messe tre infatti qui abbiamo l'altra perché appunto tutte e tre dando 10% daranno al massimo 30 e quindi sfrutteremo appieno il bonus pv per il nostro red che per l'appunto possiede comunque una cifra di hp di 8190 abbastanza rispettabile andiamo a vedere la configurazione tattica di red con le abilità che a mio avviso risultano essere le migliori per il nostro cagnolino scodinzolante dove abbiamo la prima abilità con il ringhio raggelante dove abbiamo la possibilità di contrattaccare automaticamente con diciamo delle lame di ghiaccio vengono chiamate lame di ghiaccio ma sono comunque più delle stallattiti fondamentalmente di ghiaccio che colpiscono gli avversari e aumentano la barra rivalza la barra vendetta io la chiamo vendetta ma va bene la barra rivalza se colpiscono l'avversario quindi potete anche comunque cercare di subire danni e counterare poi automaticamente tramite appunto scusate scusatemi potete counterare automaticamente tramite questa abilità la zampata crescente che è una delle abilità probabilmente più forti di red se non una delle iniziali dove praticamente possiamo colpire il nostro avversario e poi successivamente possiamo fare comunque dei bei danni tramite ovviamente la barra rivalza si amplifica il danno e si amplifica anche il raggio di azione con il quale noi l'onda d'urto riusciamo a fare danni quindi devo dire veramente veramente figa blocco superiore che invece è una sorta di stance un po' come cloud dove appunto abbiamo la possibilità di avere una stance diciamo difensiva dove possiamo bloccare automaticamente gli attacchi e aumentare la barra rivalza contraattaccando con il tempo giusto quindi se noi rimaniamo fermi ci facciamo attaccare e contraattacchiamo con quadrato durante appunto questo scambio di battute aumentiamo la barra rivalza in modo molto più efficace che è fondamentalmente lo scopo di red red va giocato così red deve subire danni riempire la barra rivalza e poi sfogarsi con la barra rivalza piena punto questo così funziona red sia in punto di vista offensivo sia dal punto di vista difensivo dal punto di vista difensivo è più conveniente perché mantenere alta la barra rivalza ci consentirà comunque di sfruttare tanti altri effetti mentre invece dal punto di vista offensivo scaricare la barra rivalza ci permetterà di essere più forti quindi in un modo o nell'altro questo è il succo di come va utilizzato red e poi sollievo guerriero che come vi dicevo prima essere una delle abilità che vi consiglierò a prescindere dal modo in cui voi utilizzate red sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo proprio perché si riesce a recuperare pv all'intera squadra in base alla barra rivalza quindi se ovviamente avete questa barra rivalza la potete sacrificare diciamo così in poche parole per poter poi curare successivamente la squadra quindi è comunque un ottimo compromesso soprattutto col fatto che red può incrementare la barra rivalza con le parate con la materia trincerante può recuperare ATB quindi avete comunque una sorta di ciclo che potrete sfruttare con red sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo per quanto riguarda invece l'espansione delle armi ovviamente molti mi avete chiesto come poter ottenere 4 disposizione cioè 4 diciamo slot per le diciamo per le armi per le prerogative delle armi e ovviamente la mia risposta è stata sempre la stessa ragazzi combattete dovete necessariamente combattere prendere punti esperienza e quindi poi nel momento in cui raggiungerete il livello 8 sbloccherete la quarta prerogativa una volta fatto questo le mie prerogative con ovviamente il collare magico perché ovviamente la mia arma di riferimento in questo video sarà il collare magico sono recupero PV e PM estremando il nemico che è comunque una comodità dal punto di vista diciamo strategico in generale rivalsa prolungata perché io sfrutto comunque red in modo più offensivo rispetto al modo difensivo quindi voglio che la mia barra rivalsa duri il più a lungo possibile consumo ATB utilizzando l'abilità delle armi ridotta quindi abbiamo la possibilità di risparmiare un po' di ATB e poi gli attacchi base invece facciamo il 5% di danni in più perché con gli attacchi base è importante fare dei danni in più semplicemente perché la meccanica di red ci consentirà di contrattaccare direttamente gli avversari quindi quando noi ci metteremo in difesa potremo premere subito dopo quadrato per aumentare la barra rivalza e fare comunque anche dei danni al nostro avversario quindi una sorta di counter manuale che possiamo fare noi man mano che giochiamo ma che comunque vedrete poi con lo showcase in generale del personaggio detto questo non credo che ci sia altro da approfondire con red perché ovviamente vi ho già detto effettivamente come lo interpreto io come lo utilizzo io sta a voi semplicemente poi decidere come utilizzarlo nel migliore dei modi possibile quindi io direi che per questo video è tutto io vi lascio allo showcase in questo caso di red fatemi sapere ovviamente al solito se il video vi è stato utile e in particolar modo se c'è qualcosa che magari volete chiedere o comunque avete qualche dubbio al riguardo potete tranquillamente scrivere sotto nei commenti detto ciò io vi ringrazio vi lascio allo showcase e ci becchiamo con un prossimo episodio bye bye e ci becchiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.